Fu il delitto che gettò l'inquietante ombra criminale dell'Andrangheta su Pesaro, quello dell'omicidio di Marcello Bruzzese ucciso il pomeriggio di Natale davanti al garage della sua casa pesarese nella centralissima via Bovio. In quel pomeriggio del 25 dicembre il 51enne fratello del pentito di Andrangheta Girolamo Biagio, ex affiliato alla Cosca Crea, fu freddato con 20 colpi di pistola in una vendetta in perfetto stile mafioso, ovvero nel giorno di Natale simbolicamente il più caro agli affetti familiari. Oggi nel Tribunale di Pesaro si è aperta la prima due giorni del processo ai tre sicari arrestati quasi tre anni dopo il delitto, ovvero nell'ottobre 2021 dai carabinieri del Ross di Ancona. Il primo a finire alla sbarra è stato Rocco Versace, 55enne reggino di Taurianova, che non è accusato di essere l'esecutore materiale del delitto ma è accusato di concorso in omicidio e nello specifico di aver apparecchiato il delitto con appostamenti e pedinamenti nei confronti della vittima. Versace era oggi collegato in videoconferenza dal carcere per un processo ancora alle fasi preliminari. Processo che però ha visto nove familiari di Bruzzese costituirsi parte civile avanzando una richiesta di risarcimento d'anni di un milione di euro. Familiari che non erano presenti in aula ma la cui stanza è stata rappresentata dall'avvocato Grazia Giannarelli. Domani il processo continuerà nel Tribunale di Ancona quando sarà il turno di Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, rispettivamente di 43 e 44 anni accusati di essere coloro che hanno premuto il grilletto e dunque gli esecutori materiali dell'uccisione di Bruzzese. I due hanno scelto il rito abbreviato nell'ottica di beneficiare di uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna.